Io ho avuto questo rapporto con questi personaggi e ci ho convissuto e non è stato particolarmente semplice. In realtà c'è Linda, c'è Mino, ce ne sono diversi. Ognuno cerca di uscire da una propria cella perché c'è un contesto sociale che spinge, che comprime molto. Quindi i vari personaggi cercano di sgombrare il loro campo visivo da questi ostacoli che sentono e ognuno reagisce in un modo. Ovviamente le sensazioni, le modalità, i termini, anche la violenza che viene fuori in un determinato momento appartiene a ciascuno di loro. Io ovviamente non volevo perché ci sono soltanto stati personaggi che mi hanno suggerito questo e c'è da dire insomma anche un passaggio. Questa storia nasce a Napoli, nasce in una parte di Napoli bene, Linda in realtà viene dalla loggetta quindi ha questo senso di rivalza ma non è soltanto un senso di rivalza. C'è un dato per il quale lei era destinata a fare determinate cose. Si rompe questo ma in realtà non si rompe soltanto in lei o nel fidanzato, si rompe in tutti quanti i personaggi. La prossima volta farò qualche cambiamento di tipo 2 prima e poi tipo 1 ma in realtà avremo da leggere perché insomma a breve ci sarà anche altro. Grazie.